900 iscritti alla gara competitiva provenienti da ogni regione d'Italia, ovviamente presenti anche le punte di diamante dal continente africano, ai quali si aggiungono famiglie ed appassionati, sfondando così abbondantemente quota mille. Sono questi i numeri della 24esima edizione della Maratonina Città di Arezzo, in programma domenica 29 ottobre, con partenza alle 9.30 da Via Roma e arrivo sempre ai portici. È una festa dello sport per tutti e mi auguro che sia una festa anche per tutti i cittadini che comprenderanno chiaramente domenica mattina qualche disagio automobilistico, ma come sempre invito ad uscire di casa a fare una passeggiata. Presenti in città anche atleti di assoluto valore. L'anno scorso è risultata la manifestazione con il ranking più elevato per quanto riguarda le mezze maratonine d'Italia e quest'anno non a caso c'è un atleta etiope che poi è stata vincitrice nel 2019 della Scalata del Castello, Helen Tola, che verrà qui ad Arezzo per affrontare, per avere uno dei migliori risultati al mondo nella mezza maratonina. E non a caso daremo il pettorale numero uno a quest'atleta perché è quella più accreditata da un punto di vista tecnico. Per quanto riguarda il settore maschile ovviamente avremo atleti del Kenya, dell'Etiopia, del Burundi, del Marocco e anche alcuni atleti sudamericani che saranno presenti a questa competizione per ottenere il risultato che l'anno scorso è stato strabiliante perché siamo scesi sotto l'ora 1, quest'anno cercheremo almeno di mantenere quella linea lì. Dalla municipale l'appello alla pazienza e alla collaborazione. Il percorso è simile a quello degli anni precedenti quindi si chiede che per una mattina si lasci i veicoli nel garage e quindi si viva la città a piedi. Torna anche il cuore in corsa per le scuole aretine e il villaggio sport e salute in piazza Saiacopo. Sicuramente c'è una grande partecipazione da parte del nostro istituto, studenti ma anche docenti, personale scolastico in generale proprio perché è una bella iniziativa di sport ma proprio a livello sociale, è un modo per vivere la città e la nostra è una scuola della città di Arezzo quindi c'è questa volontà di vivere la città in un contesto sportivo positivo che ha una grande presa su tutta la nostra comunità scolastica. È un modo per avvicinare i ragazzi al podismo, è comunque un modo per farli stare insieme, per far passare loro una bella mattinata e perché no magari per invogliarli a diventare degli agonisti. In strada infine anche i fischietti coinvolta la sezione AIA di Arezzo. È una corsa tappa a livello nazionale e si sviluppa all'interno di manifestazioni locali. Quest'anno è stata accolta la nostra richiesta come sezione arbitri di Arezzo e come comitato regionale arbitri Toscana di poter partecipare come associazione nazionale arbitri.